Se credi che c'è tempo è il nuovo CD natalizio della cooperativa di Bolina realizzato dagli ospiti del centro socioeducativo in collaborazione con alcuni artisti come Serena Abrami, La Gang ed Elpris e con la partecipazione speciale del Coro dei Bambini dell'Istituto Comprensivo Enrico Fermi di Macerata. La presentazione del CD contenente sei brani inediti anticipa il concerto in programma lunedì 18 dicembre alle ore 21 al Teatro Don Bosco di Macerata ed è stata l'occasione per illustrare le attività svolte dagli operatori insieme ai ragazzi e le ragazze del centro impegnati a favorire episodi di integrazione e socializzazione legati al tema della disabilità. Attraverso questo CD siamo riusciti a dare ancora più voce alle persone di Bolina e la cosa meravigliosa è quella di averla fatto insieme ad altri per cui la condivisione di un progetto, di un interesse comune, di un linguaggio comune come quello della musica. Lunedì sarà una festa per il nostro intero istituto comprensivo e auspichiamo che questa esperienza insomma sia solo l'inizio di una collaborazione felice e lunga. Di Bolina insomma è una realtà molto importante nel nostro territorio, una realtà che comunque ospita non solo i ragazzi del comune treiese ma anche i ragazzi di diversi comuni della provincia di Macerata e quindi questo è un ulteriore motivo di orgoglio. È la nostra giostra panoramica del Natale, è un evento bellissimo, è un'iniziativa in cui ci riconosciamo che soprattutto è fatta nel mese dell'inclusione e che appunto attraverso il coinvolgimento delle comunità riesce a dare un senso particolare al Natale.